Ciao a tutti e benvenuti sul canale, siamo qui per parlare della DC-RS, nuovo modello della line up DC Simracing. Dal 2024 la linea DC comprende la DC-RS e la DC-RR, escono dalla loro linea vendita la DC-1 e la DC-2. Naturalmente saranno sempre reperibili nel mercato secondario dell'usato e soprattutto in Italia, grazie all'ottima assistenza di DC Italia, è possibile riuscire a trovare e reperire qualche vecchio modello rigenerato, ma ragazzi siamo qui oggi per questa recensione, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, come vi ho detto siamo qui per parlare della versione R-S. della DC, vi dico subito che a livello di packaging è lo stesso livello che in realtà DC ha per tutta la sua line up, in realtà è una scatola abbastanza semplice, ma tutto ben riposto e protetto da polistirolo sagomato. Inizierei subito nel descrivervi quelle che sono gli aspetti comuni di entrambi i pedali. La struttura è in acciaio, in questo caso verniciato a polvere nera, molto molto bello. Aspetto di rifinitura che porta a un livello superiore quelli che erano i prodotti che già conoscevamo del mondo DC. La verniciatura a polvere è di ottimo livello, naturalmente porta con sé che se andiamo a fare spostamenti continui potrebbe capitare che qualche pezzettino va un pochino a rovinarsi di più rispetto magari all'acciaio normale, ma così tirata fuori offre effettivamente un bell'aspetto estetico. Per quanto riguarda le piastre che compongono il pedale sono da 3 mm e 4 mm per quanto riguarda la pedana dove appoggerete il piede. In realtà sono identiche per acceleratore e freno, sono alte 14 centimetri e larghe 5 centimetri e mezzo. È quindi possibile spostare il pedale più in alto o più in basso e naturalmente variare nell'inclinazione. Faccio una precisazione in questo punto per quanto riguarda le viti che ci sono per fare questo genere di regolazione sono a brugola. In realtà nella scatola vi vengono fornite queste che sono delle brugole a testa bassa, in realtà le ho tutte sostituite con delle viti a testa alta. Questo è molto semplice andarle a rovinare e quindi può rendere veramente complicato andare a fare qualsiasi tipo di regolazione. Personalmente vi consiglio di andarla a sostituire subito. In realtà ho consigliato anche a DC di adottare questo genere di viti per queste parti qui. Sarà molto più semplice andarla a stringere con forza e sottolineo con forza perché essendo delle asole quelle che mantengono fermo poi il pedale durante i diversi tipi di inclinazione, in realtà se non andate a stringere veramente con forza potreste trovarvi durante una sessione soprattutto per quanto riguarda il pedale del freno che magari mentre correte cambierà l'inclinazione e quindi vanno strette veramente veramente forte e secondo me con delle brugole con testa alta è molto più semplice. Altra piccola nota che faccio in questo punto ma riguarda la maggior parte delle pedaliere che utilizzano questo sistemi molto spesso riuscite a togliere molto facilmente la prima brugola, la prima vite, in realtà la seconda a far girare anche la parte dello spessore interno. Vi consiglio con delle pinze tenere ferma la parte centrale e andarla a svitare. Altro aspetto comune entrambi i pedali è il sistema di fissaggio con questi quattro fori nella parte sotto e l'andete a fissare alle vostre postazioni. In realtà è possibile acquistare anche separatamente una piastra dedicata per montarle. Faccio una piccola nota che per la posizione in cui sono messi questi fori soprattutto quelli nella parte dietro vedete è un pochino complicato andarle a stringere e quindi sarete costretti nella maggior parte dei casi andare a togliere questo gancetto qui andare a spostare il pedale tenerlo sollevato e andarla a stringere per poterlo stringere con la giusta forza. Naturalmente più importante stringere come sempre quelli frontali rispetto a quelli dietro ma anche nel caso di quelle frontali come vedete sono posti in questo punto qui quindi anche questi è un po' complicato andarle a stringere con la brugola vi consiglio con una brugola abbastanza lunga con la testa svasata andate a fare le prime regolazioni per andare a stringere la parte frontale e poi andarla a stringere con la parte migliore. Aspetto che dal mio punto di vista rispetto alla DC2 è andato un pochino peggiorando perché è più difficile fondamentalmente. In realtà nello shop è possibile acquistare anche delle staffe laterali per risemplificare il sistema di montaggio e riportarlo allo stesso sistema della DC2. Arriviamo adesso agli aspetti peculiari dei singoli pedali. Per quanto riguarda l'acceleratore il sistema che dona il feeling in questo caso è sia questa molla con il perno ma in realtà viene dato praticamente totalmente da questo pistone ad aria. In realtà io già li conosco perché li ho utilizzati per alcune mie modifiche sono molto duri come tipo di feeling però montati a questa altezza qui in realtà si riesce a premerli. L'unica pecca è che come sentite un pochino può capitare che fischiano e quindi vi consiglio nella parte qui dell'asta andarci a mettere un pochino di olio siliconico ma sotto il piede offre un feeling davvero davvero molto corposo rispetto ai vecchi sistemi o anche al sistema con il pistoncino RC che viene montato sulla DC2. Personalmente una corposità ottima e quindi rende davvero molto preciso l'utilizzo dell'acceleratore. In questo caso la forza sprigionata dal damper ad aria è veramente più che sufficiente a dare la totalità del feeling e vi consiglio caldamente di tenere la parte della molla totalmente rilasciata, non servirà che andrete a indurire più di quello che può fare. Naturalmente in questo caso vi consiglio una buona postazione, una buona posizione perché è importante che siate al massimo della comodità per potervi regolare bene con la pressione, questo perché chi non è abituato a questo genere di forze e viene magari anche da una DC normale con la molla originale rimane abbastanza spiazzata della corposità che ha questo nuovo pedale. Per quanto riguarda tutte le congiunzioni ci sono dei blocchetti in acciaio tutto veramente molto resistente e totalmente aderente a quello che è il pedale e offre la massima rigidità e praticamente esente da quelle che possono essere piccoli giochi del pedale, anche se la struttura effettiva del pedale come vedete è davvero molto fina soprattutto perché a differenza del vecchio modello come vedete in questa zona è stata fatta questa piega che va a sfinare nella parte alta, anche in questo caso è possibile regolare la corsa tramite questa vite e andando a spostare più avanti e più indietro quello che è questo distanziale, in questo caso la regolazione è davvero molto piccola rispetto al modello precedente, in più anche qui vi dico andata a stringere veramente con forza perché soprattutto in questo caso con l'acceleratore potete rischiare che regolate magari una corsa più corta e durante una gara vi si sposta e va a starare totalmente quello che è questo pedale, anche qui vi consiglio se potete andate a sostituire le viti con delle viti sempre a bruola ma a testa alta in modo che sia più semplice andarla a stringere veramente con forza, però a prescindere da questo la regolazione di corsa che offre questo pedale è pochissima, c'è poco range tra la corsa più lunga e la corsa più breve e quindi non si può accorciare più di tanto rispetto soprattutto al modello precedente che tra il più lungo e il più corto cambiava abbastanza macroscopicamente quella che era la corsa del pedale. Per quanto riguarda l'elettronica parliamo di un sensore di all, in questo caso montato nella parte bassa i supporti sono sempre in stampa 3d ma dal mio punto di vista a livello ingegneristico è stato totalmente migliorato, questo perché soprattutto il supporto in questo caso è largo totalmente la parte bassa del pedale e quindi non consente nessun tipo di spostamento da parte della calamita, cosa che poteva succedere col modello precedente se uno magari per sbaglio ci andava ad urtare, in questo caso non ci saranno problemi mai, naturalmente a livello di connessione sempre il solito connettore RJ, passerei adesso al pedale del freno, sempre in questo caso abbiamo una cella di carico mavin da 100 kg, lo stesso modello che veniva utilizzato anche nella DC2, ma cambia e si stravolge totalmente il sistema di fissaggio che è praticamente identico alla versione RR, la versione che ho più preferito, questo perché va a far lavorare meglio il perno e i suoi elastomeri andando a modificare l'angolazione di appoggio degli elastomeri in funzione della pressione e quindi rende molto più fluido quello che il movimento, il sistema però rimane pressoché identico quello della DCRR, cosa si va a migliorare ma che in realtà da quest'anno si va a migliorare anche nella DCRR sono gli elastomeri, in questo caso utilizza elastomeri a iniezione, nella confezione vengono forniti una hard, due soft, la molla e quattro distanziali perché i distanziali questi di plastica rigida in realtà vanno utilizzati di solito due a due, in questo caso potete andare a trovare la configurazione che più preferite, nel caso vogliate utilizzare la molla ve ne viene fornita una con una boccola all'interno che ne va a limitare un pochino la corsa in modo che evita di compremersi totalmente quindi allungare esageratamente quella che la corsa e con un po di precarico andrete a decidere quella piccola parte ancora più morbida rispetto all'elastomero che dovrà avere il pedale, ma scegliete la configurazione che più preferite, personalmente la mia configurazione ideale sono i quattro distanziali totalmente duri e un hard, ma scegliete quella che più preferite, la cosa molto interessante di questo progetto che c'era anche nella RR era la possibilità di variare l'aggancio del perno sul pedale e quindi più lo sposterete verso l'alto più la corsa si andrà ulteriormente ad accorciare e dovrete fare ancora più sforzo perché la pressione sarà più diretta verso la cella, naturalmente più l'andrete a montare in basso più la corsa aumenterà e più in realtà servirà meno sforzo per procurare il segnale, spero che questo genere di spiegazioni siano utili ma spero che molti di voi che mi seguono siano ormai a conoscenza di come funziona la geometria di un pedale rispetto la parte meccanica, naturalmente poi che utilizziate elastomero e molla c'è sempre la solita ghiera in metallo con cui potete anche dare una micro regolazione per un po di precarico, personalmente vi consiglio il minimo precarico possibile perché va a mangiarsi un pochino quello che è il segnale della cella, anche se in questo caso abbiamo un elettronica a 16 bit quindi da zero a oltre 64 mila punti, naturalmente non sono sfruttabili da nessun prodotto tutti quei punti perché si parte sempre da un range un pochino più alto soprattutto per quanto riguarda il freno ma ci sono davvero tanti punti lettura reali che questa pedaliera può leggere, aspetto sempre molto molto importante, per quanto riguarda l'elettronica è sempre un elettronica di derivazione Leo Bodnar quindi sempre tutte le accortezze per quanto riguarda la pulizia e la filtrazione del segnale, a livello estetico la scatola è sempre una stampa in 3d in questo caso va a cambiare la piastra sopra che diventa in plexiglass con la serigrafia DC, ci sono i tre connettori RJ nella parte frontale e la connessione di usb nella parte laterale per la connessione al pc, naturalmente poi tramite questa piccola staffetta in metallo la potrete andare a fermare in qualsiasi punto della vostra postazione, aspetto su cui DC si è sempre molto concentrata è la parte del software e anche in questa ultima versione ci sono delle piccole migliorie, ho fatto un video per voi. Eccoci all'applicazione per la calibrazione della DC-RS, inizierei subito col farvi vedere i pulsanti per caricare John preset o salvarlo e inizio subito con questo pulsante per farvi vedere le novità di questo nuovo software e sono la possibilità di settare dei tasti per fare delle azioni con la vostra pedaliera, in questo caso abbiamo questo primo valore per aumentare il valore della frenata e con quest'altro diminuirla, clicchiamo e assegniamo un pulsante clicchiamo e assegniamo un pulsante, in questo caso più in basso abbiamo invece tre profili di curvatura che possiamo dare al nostro acceleratore e anche in questo caso scegliamo tre pulsanti, per quanto riguarda quello della frizione non ce l'ho e non l'ho potuto configurare, faccio anche una piccola nota in questo punto è che ho dovuto assegnare dei pulsanti fisici del volante oppure potete assegnare quelli della tastiera, non ho potuto con questo volante che sto utilizzando assegnare i rotary per andare a modificare questi valori, molto probabilmente da quello che ho capito è perché l'impulso del rotary è troppo veloce e il software non riesce a rilevarlo, è possibile altresì andare invece a configurare anche i funky switch nelle posizioni per esempio alto basso destra sinistra, adesso possiamo chiudere e andiamo a configurare il nostro acceleratore, come vedete già rileva una parte di segnale molto semplicemente andiamo ad aumentare la zona minima, io anche un punto in più in modo che se anche doveste appoggiarci il piede non rileva segnale, premete con quella che è tutta la corsa del pedale in questo caso rileva nel mio caso il 100% del segnale, io per sicurezza un 1% di zona morta glielo do, in questo caso poi possiamo andare a modificare le curve, ce ne sono alcune già preimpostate oppure potrete voi andare a modificare in percentuale sui singoli valori e andare a creare la curvatura che più preferite, cosa molto bella come già vi spiegavo prima è che potete assegnare tre profili diversi di curvatura, per esempio al profilo A lasciamo questa curvatura andiamo al profilo B, ci chiederà di salvare, al profilo B lasciamo una curvatura totalmente lineare, andiamo a scegliere il profilo C e sul profilo C magari scegliamo questo genere di curvatura qui, selezioniamo il profilo A, ci richiederà di salvare e a questo punto con i pulsanti che abbiamo selezionato sul volante andremo a cambiare i diversi valori, naturalmente una volta fatte queste configurazioni cliccate su send settings to pedal, passiamo adesso al pedale del freno, anche in questo caso come vedete rileva una piccola zona di segnale, andiamo a dare una parte di zona morta, in questo caso io ho dato il 7%, vado subito a settare quella che è la forza massima, in questo caso vedete volendo riesco anche a saturare totalmente quella che è la forza che serve per questo pedale, personalmente la trovo un po' troppa, questa è la forza che vorrei e diciamo che ci troviamo intorno all'87%, mi lascio un pochino di agio per poter gestire meglio la frenata, potrete scegliere la curvatura di come dovrà muoversi il segnale, ce ne sono già anche qui alcune preimpostate oppure potrete voi andare a modificarle come meglio credete, in più naturalmente avremo già impostato prima i pulsanti per andare a modificare in corso dopo mentre state giocando quella che è la forza massima per andare a frenare, vediamo magari siete stanchi con il pedale andata ad abbassare con questa forza ritornata a poter premere il cento per cento, una volta finita la configurazione send settings to pedal, naturalmente questo consente di poter andare a configurare nel modo migliore e cuocirvi nel modo migliore questi due pedali, ma penso di avervi detto tutto. Ragazzi bentornati arriviamo alle conclusioni finali, sicuramente a livello estetico è il prodotto più bello che ho provato della line up DC, questo perché amo le rifiniture verniciate e quindi vi da proprio quell'effetto al tatto molto più bello, anche se facendo continui spostamenti soprattutto per me che faccio le recensioni quindi vado a cambiare molto spesso alcune regolazioni può capitare che la pedaliera si segni di più, ma sta lì sotto non ci farete tanto caso. Parto subito con la piccola nota negativa per quanto riguarda il fissaggio sulla postazione, personalmente sono abituato a montare e smontare e non credo che nessuno abbia una particolare difficoltà poi alla fine a montarla perché alla fine si fa, però è un aspetto che rispetto al modello precedente si è complicata un pochino la vita, anche se sono acquistabili le staffette laterali per ripristinare lo stesso sistema, di base come la ordinate dovete farci un pochino più attenzione e sicuramente perderci un po' più di tempo rispetto a prima. Per quanto riguarda la struttura è un'esperienza davvero molto simile a quella che era l'esperienza RR, soprattutto nelle rifiniture, l'unica cosa che consiglio a DC veramente su questi punti, visto che ha deciso di mettere delle asole, utilizza delle viti a brugola un pochino più alte perché è veramente facile poterle rovinare, a me mi è successo, naturalmente sono andato a riprenderle con la testa più alta proprio perché così i problemi si azzerano totalmente. Arriviamo adesso alla parte più importante, il feeling, iniziamo con l'acceleratore, questo damper mi ha stupito, non pensavo che si integrasse così bene con il pedale, dai veramente il giusto feeling che mi piace, adoro il pedale dell'acceleratore molto corposo, per alcuni potrebbe risultare forse anche troppo ma a me piace davvero tanto, l'unico aspetto che qualcuno deve soppesare è che non è possibile regolarlo più morbido di questo ed è effettivamente abbastanza duro, ma questo genere di durezza e pienezza rende la pressione davvero molto controllata, unita al loro software sarete chirurgici su quello che è l'acceleratore. Passiamo al freno, come ho già detto più volte è un'esperienza davvero davvero vicina a quella che era la versione RR, quindi la versione più costosa, ma effettivamente il feeling è pressoché identico se non in questo caso migliorato dalla tipologia dell'astomeri che vengono montati in questo prodotto. È una linea totalmente nuova rispetto ai precedenti e aspetto molto interessante che all'interno ci sono delle piccole boccole in metallo che vanno a preservare totalmente la durabilità dell'elastomero, oltre a farlo scivolare molto meglio non permettono di farlo comprimere oltre un certo limite, in questo caso parliamo di poco più di 5 mm per single elastomero, sia quello con la mescola hard sia quello con la mescola soft e quindi naturalmente andate a scegliere la giusta composizione e facendo tutte le varie prove, però l'aspetto sicuramente interessante che con tutti gli elastomeri forniti con la molla e soprattutto con questa regolazione qua, io trovo impossibile non trovare il proprio piacere, non trovare il feeling che uno più desidera, in questo caso con la regolazione sul secondo foro personalmente ho utilizzato la pedaliera intorno al 90 per cento quindi quasi al massimo, trovo ottima la geometria con cui lavora naturalmente potrebbero resterci persone che premono anche più di quanto premo io anche se io sono ben posizionato e riesco a fare molta forza regolatevi anche sotto questo punto di vista o magari valutate anche la versione rr, però ragazzi i fondamenti ci sono tutti segnale molto ampio molto pulito struttura veramente ben solida personalmente la stra promuovo e soprattutto arrivato a questo punto voglio sottolineare quello che per me l'aspetto più importante della DC ed è DC Italia, non perché conosco Francesco ma perché sono all'interno ormai da tempo nella loro chat di assistenza e devo dire che l'assistenza che viene fornita su questi prodotti è ragazzi di altissimo altissimo livello, poche aziende conosco che offrono questo livello così vicino di assistenza ai propri clienti aggiungendo poi un ulteriore servizio che personalmente conosco soltanto di DC ed è quello di dare la possibilità ai propri clienti di dare indietro magari un vecchio modello e avere scontato il nuovo e questo è un aspetto che per gli utenti qui dell'italia trovo davvero davvero un plus. Naturalmente ringrazio DC Simracing per dare la possibilità al mio canale di poter recensire sempre i loro prodotti, naturalmente lascerò tutti i link in descrizione per poterli acquistare, ragazzi se c'è stato qualche aspetto che ho tralasciato e che magari volete un approfondimento scrivetemi qui sotto nei commenti, naturalmente spolliciate, scrivete, salutatemi, ragazzi scrivere nei commenti è il modo migliore per far lavorare l'algoritmo e questo aiuta soprattutto me a poter portarvi sempre più prodotti e quindi farvi scegliere al meglio, alla prossima ciao! 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 Grazie a tutti.